Avevo appena visto Gianmarco vincere la medaglia d'oro nel salto in alto e ho detto che lo devi fare, lo puoi fare e lo devi fare. Ho cercato di focalizzarmi solo su me stesso, sulla mia corsia, senza guardare gli avversari e cercare di correre nel miglior modo possibile. Ho fatto un insieme di cose, tutte quante perfette, che mi hanno portato a correre di nuovo un nuovo record europeo e vincere questa finale in cui non aveva realmente un favorito numero uno. E quindi è stato veramente fantastico, la parte iniziale mi è piaciuta veramente tanto perché sono riuscito a lasciarmi andare, riuscire poi a fare una parte lanciata come piace a me e mi sono buttato anche abbastanza bene sul traguardo. Ero più contento di aver visto il 79, però poi hanno arrotondato 80, ma andava bene lo stesso.